Una nuova iniziativa che vede in campo la BCC Montepruno a sostegno dei ragazzi affetti da forme di autismo. Dopo l'inaugurazione del Centro Spazio Indaco, continua la collaborazione con Rosa Mandia per le iniziative a sostegno dei ragazzi affetti da disturbi dell'apprendimento e lo fa partecipando al VII International Congress Autism, un congresso di portata internazionale che si terrà a Salerno dal 29 novembre al 1 dicembre 2024. L'iniziativa a cui aderisce la BCC Montepruno insieme con la Fondazione Montepruno è stata fortemente voluta dalla cooperativa Giovamente presieduta da Luca Goffredo e con la vicepresidente Rosa Mandia. L'evento, imperdibile per chiunque desideri approfondire le proprie conoscenze sull'autismo, vedrà la partecipazione di esperti di livello mondiale. In questi tre giorni intensi sarà possibile immergersi in un programma ricco di riflessioni, workshop e scambi di esperienze, ideato per esplorare le molteplici sfaccettature dell'autismo. Sarà un'occasione di confronto aperto e stimolante che permetterà ai partecipanti di arricchire la propria comprensione e di scoprire nuove prospettive su un tema di grande rilevanza sociale. La BCC Montepruno e la Fondazione Montepruno, nella persona del direttore e presidente Michele Albanese, ha dunque deciso di essere parte integrante del progetto solidale promosso dalla cooperativa Giovamente e lo fa facendosi carico di quote e di iscrizione dei genitori che sono clienti o soci dell'istituto di credito che ne faranno richiesta. È un contributo concreto destinato a chi condivide tali valori e crede nel potere della conoscenza e della condivisione per crescere insieme. Grazie a questa collaborazione, ha sottolineato il direttore generale della BCC Montepruno Michele Albanese, ribadiamo il nostro impegno a non lasciare indietro nessuno, sostenendo quei valori di inclusività e supporto comune che sono alla base della nostra missione. Vogliamo accompagnare i nostri giovani nel loro percorso di crescita, dare forza e fiducia alle imprese locali e offrire supporto alle famiglie che, come noi, credono nel valore della comunità. Il nostro contributo è e sarà sempre un investimento nel benessere collettivo e nelle radici che ci legano al nostro territorio. Ogni iniziativa, continuo albanese, a cui partecipiamo è per noi un'occasione per dimostrare che essere una banca del territorio significa prima di tutto essere al servizio delle persone, delle famiglie e delle imprese che ogni giorno costruiscono con passione e sacrificio il futuro del nostro territorio. Non c'è soddisfazione più grande, prosegue ancora Albanese, che vedere le vite delle persone cambiare, crescere e migliorare anche grazie a una piccola scintilla accesa dalla nostra banca e dalla nostra fondazione. Invitiamo tutti coloro che condividono i nostri valori a unirsi a noi in questo viaggio per costruire insieme un futuro basato sull'amore e sul rispetto reciproco, con cuore e passione, insieme a voi per un domani migliore. La BCC Montepruno e la Fondazione Montepruno si augurano che il VII International Congress Autism rappresenti un altro passo verso una comunità più forte, unita e solidale.